È terminata la prima parte dei lavori per i sottoservizi nell'asse centrale dell'Aquila, un momento celebrato ieri sera con un aperitivo in centro nell'ultimo tratto di Corso Federico II. Parliamo di un tratto di 50 metri che ha creato, come da noi stessi documentato, molti disagi e coraggiosi commercianti che avevano avuto l'idea di riaprire le loro attività in centro nel dopo terremoto. In questi giorni che vedono tutte queste impalcatura, queste cose, non vengono assolutamente... Io non ho visto entrare, stamattina non è entrato nessuno al negozio. Purtroppo questi sono lavori che bisognava fare, a parte bisognava farli subito dopo il terremoto quando non c'era nessuno dentro alle attività e ai palazzi. Seconda cosa, sono lavori che non bisogna fare nel periodo estivo in cui noi abbiamo la possibilità di incassare qualche cosa. Commercianti che forse ora potranno tirare un sospiro di sollievo e puntare a fare i maggiori. Ad occuparsi dei lavori è stata la SCARLAS centrale, composta dall'azienda di Ravenna Kmar e dalle Aquilane di Ilfraer Rettadei. Aziende che hanno sostenuto anche la spesa extra di 2,5 milioni di euro, somme per maggiori spesi, hanno detto, venute fuori durante l'esecuzione dell'opera. Soddisfatte per i tempi le aziende e anche il presidente della Gran Sasso Acqua, Merico Di Benedetto, che ha parlato anche del dialogo che c'è stato con i commercianti, valutando insieme le soluzioni migliori, polemiche a parte, e così si continuerà a fare addetto anche per il resto del cantiere. Per il direttore tecnico di SCARLAS, Antonio Tramontano, è stata trovata una squadra operativa e siamo riusciti, ha detto, ad accontentare tutti, ascoltando le esigenze di tutti. Anche perché, per quel che riguarda i commercianti, un giorno in più di chiusura può far male, specie in questo periodo. Per quel che riguarda Corso Federico II, ha spiegato, non abbiamo incontrato alcun tipo di impedimento e quindi l'opera è andata sostanzialmente liscia.